E' morto dopo tre giorni di agonia il 59enne di Abano Terme, rimasto coinvolto in un tremendo incidente lungo la direttissima verso il comune termale venerdì pomeriggio. La vittima è Giancarlo Girardi, titolare della nota catena ortopedica Medical Girardi. L'impatto frontale tra i due furgoni, un botto tremendo, Girardi era la guida del furgoncino Volkswagen più piccolo che ha improvvisamente invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion per il trasporto di bevande. Il suo furgone si è fermato dopo un centinaio di metri. Impressionante la foto in cui si vede la parte del furgone completamente squarciata. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato il 59enne in ospedale in gravissime condizioni. Il quadro clinico però non si è mai stabilizzato e l'uomo è morto nella notte.